Friday for Future, Teramo e WWF Teramo hanno presentato un documento di analisi dei programmi elettorali presentati dalle coalizioni che sostengono i candidati alla carica di sindaco del Comune di Teramo. Carlo Antonetti, Gianguiro D'Alberto e Maria Cristina Marroni. L'analisi ha riguardato sei macro temi ambientali al fine di valutare la sostenibilità dei programmi di governo della città. Abbiamo sostanzialmente esaminato quelli che sono i tre programmi dei candidati a sindaco al Comune di Teramo e abbiamo tracciato quelli che sono gli elementi presenti e anche quelli mancanti dal punto di vista ambientale. Ne sono alcuni che sono comuni ai vari candidati, altri che sono totalmente assenti, ad esempio non ci si pone il problema del consumo di suolo, non si pone un problema fondamentale per Teramo come ad esempio la tutela dell'acqua del Gran Sasso. E altri temi invece vengono più sviluppati, chi più chi meno, ad esempio quello sulle comunità energetiche, quello sul trasporto urbano, tutta una serie di temi quindi che sono importanti per rendere, come si diceva, più sostenibile la nostra città. Il documento presentato inoltre contiene dieci proposte per rendere la città di Teramo più sostenibile. Proposte che riguardano un po' dei temi che appunto non vengono molto trattati nei programmi e che trasmetteremo ai candidati affinché possano prendere anche degli impegni una volta eletti. Sostenibilità, clima ed energia, tutte e tre le coalizioni pur rimanendo nel vago hanno richiamato nei loro programmi elettorali la necessità di favorire l'adesione dei cittadini alle comunità energetiche per la produzione e la condivisione di energia elettrica da fonti pulite. Siamo felici di questo, quindi ci aspettiamo che siano realizzati che sono appunto l'efficientamento energetico e tecnologico, la tutela degli animali d'affezione, l'accrescimento e la manutenzione delle zone verdi prevista da tutti quanti, un miglioramento, un'istituzione del piano urbano del traffico e piano urbano della mobilità. Infine c'è da parte di tutti uno sviluppo della mobilità ciclopedonale previsto, quindi questi ci aspettiamo che vengano realizzati a prescindere da chi vinca le elezioni.